buonasera a tutti benvenuti all'appuntamento del 13 giugno di sprint to you dedicato alla grande anzi grandissima atletica perché sono appena finiti sei giorni trionfali per l'atletica italiana con gli europei che si sono conclusi ieri sera con qualcosa di straordinario 24 medaglie per l'italia e oggi siamo qua a commentare sono qua a commentarli siamo con un grandissimo esperto di atletica ma soprattutto anche organizzatore di uno dei più bei meeting italiani forse il più bello poi ovviamente ce lo dirà lui ma sicuramente l'idea di sì benvenuto a marco mura organizzatore del meeting internazionale di savona ho detto bene il più bel meeting italiano giusto marco ciao a tutti e grazie per l'ennesimo invito ogni scarrafone bella mamma sua dicono per me il più bel meeting italiano però chiaramente c'è innanzitutto colt in gala e poi tanti altri meeting a parte colt in gala parte colt in gala che insomma diciamo che è fuori quota perché dai mon league e quant'altro il meeting di savona la peculiarità è che da tantissimi anni apre la stagione internazionale italiana e lancia appunto l'atletica italiana nelle sue manifestazioni internazionali istituzionali quindi probabilmente la peculiarità è quella e bisogna essere consapevoli che savona in questi anni ha scritto spesso la storia dell'atletica italiana e ultimamente anche mondiale e quest'anno in particolare di fatti vorrei partire dal meeting di savona poi dedicheremo ampio spazio chiaramente al commento degli europei dove peraltro marco è stato anche presente in alcune serate direttamente all'olimpico quindi ci potrà anche raccontare l'atmosfera che si respirava parliamo per un attimo del meeting di savona di quest'anno straordinario forse il più bello non lo so nel senso che ci sono stati tre record italiani vabbè due dell'adosso più quello di fabbri storico un record mondiale under 20 e ci sarebbe stato al mille per mille anche un altro record italiano se lorenzo simonelli a segreggiato perché l'ha già iscritto però purtroppo purtroppo poi fortunatamente non era niente di grave come si è ben visto insomma il più bel meeting di savona di sempre o sbaglio sì sicuramente quest'anno era la tredicesima edizione sul depliant c'era scritto 13 però si leggeva 25 perché io ho iniziato nel 2000 con i campi lanci e subito col botto perché non dimentichiamo che c'è stato record italiano della silvia salis nel 2001 nel 2003 c'è stato record del mondo nel lancio del martello per ipsi moreno e siamo arrivati poi negli anni a livello internazionale di world athletics si è stata sicuramente l'edizione migliore non solo a livello di storia della tecnica italiana mondiale quindi con tre record italiani due nei cento metri e uno nel lancio del peso con fabbri assoluti e poi signori lotte 36 che poi è stato battuto da mattia a savo a roma nella pedana rialzata dell'olimpico otte 36 ragazzo di 19 anni che ha vissato lotte 44 appena ventosa l'anno scorso è un risultato pazzesco monster lui ha superato anche quando saltava in gioventù carli uis e poi i 7 90 di un bambino di 16 anni in zoli tanta roba e quello lì è il record del mondo di un quindicenne quindi ci sono stati tanti contenuti poi c'è stato un miglioramento malgrado alcune gare siano state danneggiati dalla pioggia anche del ranking mondiale del punteggio è stato fatto il record storico con 83 mila 349 punti adesso siamo 20 settesimi al mondo nel ranking dei meeting io credo che quest'anno riusciremo a concludere nella top 50 mondiale e top 30 europea e quindi i contenuti sono stati tanti malgrado le defezioni perché qualche giorno prima di savona ue re ha avuto una disoluzione alla caviglia davide re che purtroppo non abbiamo visto gli europei ha avuto un problema serio al piede si bi ha avuto un affaticamento simonelli ha avuto un contrattura a alebamas la sartori anche lei un esponente dei 400 ostacoli da 54 80 e altri stranieri quindi malgrado queste importanti defezioni quest'anno è stato l'anno più emozionante ma anche l'anno più difficoltoso perché tutti vengono a savona non solo per l'apprezzata organizzazione ma anche perché c'è bel tempo a savona non piove mai a savona c'è sempre il sole a savona c'è il vento a favore a savona fa caldo e quest'anno c'era pochissimo vento ha piovuto spesso durante la manifestazione faceva freschetto la pista tratti era lagata quindi quest'anno abbiamo trovato le peggiori condizioni meteo della storia del meeting internazionale ma non le peggiori in assoluto perché io ricordo nel 2008 quando silvia sales fece le gran brilanci ed è documentato su youtube il suo primo 70 metri 70 e 0 6 standard per pechino per l'olimpiadi e lingua fece 79 71 c'è stato un temporale pazzesco era saltata la luce e i ragazzi avevano gareggiato nella nella pedala magnata però quest'anno è stato veramente difficoltà io stefano tili scherzando mi ha detto alle due e mezza eri disperato marco ti vedevo girare per il campo perché cambiava il vento non sapevate se saltare nella pedale del triplo montemare o mare monte la pista veniva asciugata con un soffiatore industriale potente per rimuovere i laghi eravamo in grossa difficoltà poi si è aperto un pochino al cielo dopo l'undice e dodici ottenuto da zainan in condizioni assurde perché pioveva forte l'undice e dodici l'ha fatto con pioggia battente dopo questo record c'è stata un'oretta di tregua dove la pioggia è diminuita a tratti scomparsa la pista si è asciugata e in quell'ora lì ragazzi c'è stato l'apoteosi però magari ne parliamo più tardi dai lo scopriamo tutto non facciamo riassunto subito no no vabbè d'accordo insomma diciamo che no ma poi 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 raccontare tutto nel senso che diciamo che dopo vorrei più dedicarmi al commento degli europei e poi soprattutto la domanda che che devo dirti mi fa piacere perché me lo stanno chiedendo in tanti anzi devo dire che c'è anche qualche radio che mi ha addirittura come guarda che tutti mi chiedono in tanti mi chiedono cosa succederà adesso alle olimpiadi dopo quindi poi te la faccio a te questa domanda rispetto a diciamo questi 24 po di del degli europei però no chiudiamo però il discorso appunto del miglior di salora che in effetti c'è ma lì a poi alla fine è stato diciamo un trionfo dai diciamo alla fine non tutto quello che è stato prima sembrava non ci fosse stato sembrava che fosse stato bello tutto il giorno insomma diciamoci la verità quindi complimenti raddoppiati però no grazie ferdi il discorso è che io pensavo che dopo il 10.03 di filippo nel 2018 dopo il 9 95 di marcel nel trampolino olimpico del 2021 e addirittura dopo lotte 44 seppur con 2.2 di mattina furlani io avessi visto tutto a savona invece mamma mia c'è successo qualcosa di di incredibile diciamo che come scrive la una delle migliori penne italiane che giulia zonca sulla stampa quando c'è un risultato nell'aria savona la tira fuori questa volta il risultato era anche nella pioggia diciamo che addosso aveva già dimostrato alle indoor le sue grandissime capacità lo stesso mattia che ha sfiorato i pochi centimetri con 8 e 34 il record mondiale leo fabbri però ragazzi con 0 9 di vento giornata umida seppur quando ha fatto 11.02 non piovesse se zainab trovava la classica giornata di savona cioè del 10.03 filippo del 9 95 di marcel io non oso immaginare cosa poteva succedere io credo che lei 10.88 10.92 sarebbe stato nelle sue corde per migliorare l'11.02 di savona ottenuto appunto vi ha detto con freschetto umidità ha dovuto usufruire del massimo del vento a roma 2.0 quindi in tasca quel giorno a savona aveva 10 centesimi leo fabbri 22 95 io da ragazzino avevo sul nel diario di ragioneria quando andavo alle superiori la foto di andrei con 22 91 fabbri ha fatto 22 95 e poi lotte 36 al secondo salto mattia si è fermata secondo salto perché giorno dopo è stato molto generoso perché lui la mamma e il manager manio bassani hanno mantenuto la promessa che mi avevano dato già a inizio anno che sarebbe venuto a saltare a savona era l'uovo copertina sul depria sulle locandine il giorno dopo è partito è andato dall'altra parte del mondo è una competizione quindi mattia con piogerellina freddo e comunque relativamente poco vento ha fatto otto 36 secondo me se lui continuava la gara poteva scapparci un altro record italiano l'847 di 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 andreao quindi eh c'è stato veramente l'apoteosi e poi appunto in zoli un bambino di 15 anni che fa 790 mamma mia quindi diciamo la mia eh la mia emozione è passata dallo sconforto delle due e mezza dove vi posso assicurare che il meteo era veramente inclemente pioveva veramente forte faceva freddo il vento girava in continuazione eh io devo devo dire che questa volta eh il direttore d'orchestra ha avuto degli orchestrali eccezionali perché il mio staff di 50 persone ha risolto veramente un'emergenza climatica inusuale perché gli ostacoli erano dall'altra parte perché c'è la vento da sud poi il vento è cambiato vento da nord sposta i 60 ostacoli da questa parte con i carrelli poi la pedana del salto è triplo c'è la televisione c'è la diretta rai non si possono fare brutte figure sposta la microcamera togli i computer i gazebo cioè è stata veramente un'impresa vi posso assicurare che sono veramente orgoglioso adesso festeggiavo il 19 sera con una grandissima cena con tutto lo staff eh la mia fortuna è avere appunto tantissimi collaboratori di qualità nessuno ha marcato visita è una giornata così uno può dire me ne sto a casa c'ho un impegno invece sono venuti tutti anzi c'è gente che mi ha chiamato mi ha detto hai bisogno visto che c'è mal tempo ti posso aiutare quindi alla fine ho reclutato altra gente quindi che dire è stata una giornata storica indimenticabile per la sedica italiana mondiale e la carta stampata facciamo e facciamo vedere la maglietta marco ecco questa maglietta ne vado veramente orgoglioso il mio amico ottaviano Giuliano me l'ha regalata l'anno scorso perché lui sostiene come tante altra gente che se non hai fatto il miti di Savona non puoi dire di aver fatto atletica perché in effetti a Savona non abbiamo il papa io non sono il papa però molti dicono che se vuoi una bella stagione devi passare a Savona a prendere la benedizione in questi anni bisogna dire che molti atleti li abbiamo lanciati perché molti atleti sono partiti a Savona che erano degli atleti talentuosi normali e sono usciti dal cancello con un record italiano con la migliore protezione al mondo o come nel caso di di Mattia che comunque lui era già un atleta fermato aveva vinto i mondiali allievi a gerusalemme quindi non è che l'abbiamo scoperto a Savona però l'844 dell'anno scorso è stato a livello mondiale qualcosa di pazzesco quindi eh questa maglietta ci vado anche a dormire certe volte l'ho voluta mettere in questo caso perché secondo me eh dobbiamo essere tutti orgogliosi perché in questi anni a Savona si è fatto veramente tanto in un piccolo campo le olimpiadi di Savona aveva intitolato l'amico Alessandrini sulla rivista federale atletica perché su una discarica in un piccolo campo con poco parcheggio con una piccola tribuna abbiamo fatto una piccola olimpiade e quest'anno veramente abbiamo fatto qualcosa di pazzesco un miracolo nel miracolo non solo a livello italiano però perché è passato sotto traccia ma gli addetti lavori non l'hanno eh diciamo sottovalutato 44 e 46 di Charlie Dobson Roba da matti perché comunque eh ha fatto veramente una prestazione monster e lui stesso suo manager meno scritto il 44 e 46 gli ha dato la consapevolezza di cosa avrebbe potuto fare a Roma e a Roma ha fatto 44 e 3 non è riuscito a vincere perché davanti aveva Dom che è il mostro belga campione mondiale indoor quindi diciamo rientro dopo due anni degli ostacoli di McLeod il campione olimpico di di Rio è venuto a Savona 13 e 34 ha stracciato tutti c'era gente come Pozzi con gli Opis gli Opis è stato insieme a Simonellis in ultimo ostacolo a Roma quindi gente gente di qualità l'Anderson anche lei infortunio problemi è rientrata Savona pronti via 12 88 poi per ora non ha ancora migliorato quindi diciamo c'è stata una qualità tecnica italiana malgrado molte riflessioni e straniera di altissimo profilo è venuto gran parte del gruppo di rider mi dispiace che Brumel si è fatto male non parteciperà ai trials però comunque eh Melluzzo ha fatto solo la batteria Patta ha fatto solo la batteria tutta questa gente poi è salita sul podio alcuni di questi hanno sentito l'ino nazionale una grandissima emozione l'ho provata nella nella premiazione di di Fabri con l'ino nazionale è stata veramente a squarciagola ho fatto il video e spesso lo rivedo lo risento e anche Leo che è un mio carissimo amico eh se lo merita ha fatto degli anni difficoltosi covid pubalgia problemi tre anni fa Savona ha fatto 19 50 e quest'anno ha fatto 22 95 quindi sono situazioni veramente emozionanti che noi innamorati dell'atletica ce la porteremo per tutta la vita del cuore la differenza di Savona secondo me senza togliere niente agli altri organizzatori è che andiamo sempre oltre mettiamo il cuore sotto oltre l'ostacolo non ci accontentiamo mai viviamo di emozioni c'è un piccolo budget ma ce ne freghiamo perché gli atleti vengono anche per amicizia e per fare grandi risultati come quest'anno certo senti Marco ehm vabbè già hai già lanciato insomma il discorso sugli europei la femminazione di Fabri tu hai vissuto due o tre salate giusto a Roma eh sì ho fatto sabato 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 sera domenica sera lunedì sera poi eh sono rientrato perché ho preso il servizio come era cioè siccome va beh insomma per carità non vogliamo minimamente non voglio minimamente fare alcun tipo di polemica insomma però c'è stata l'unica piccolissima polemica sul poco pubblico no cioè com'era l'atmosfera tu che eri allo stadio c'era effettivamente così poco pubblico si sentiva allora cioè secondo me eh dipendeva molto delle atleti in gara e io in televisione verdi ho visto poco pubblico sabato c'erano circa 40.000 spettatori perché chiaramente in pedana c'era Leo c'era Marcel eh c'era Furlani e la i campi i ragazzi gli riempono le icone eh le riempie ultimamente anche Fabri eh perché il peso sta ritornando il peso di di Andrei all'epoca fine anni Ottanta eh i campi gli riempono senza toglier niente agli altri però Tamberi, Fabri, Larise a Pechino, Furlani, Jacobs, la staffetta 4% con Tortu eh quando non ci sono loro è complicato però poi le ultime due giornate sono andate in crescendo quindi quando sono andato io sabato sera c'erano 40.000 spettatori il campo e lo stadio, poi stiamo parlando dell'Olimpico ragazzi 80.000 spettatori li puoi riempire per la finale di Champions League, del derby Roma-Lazio, però per l'atletica avere 40.000 spettatori è qualcosa di eccezionale, quindi questa cosa io non domenica ovviamente c'era un po' meno gente di sabato lunedì c'era un po' più gente e poi quando ho visto la televisione la serata di Tambene, la serata di ieri sera lo stadio era quasi pieno quindi ho visto non ci sono stati grossi problemi organizzativi, chiaramente organizzare non è facile, quindi criticare senza aver mai organizzato nulla secondo me è troppo facile e anche un po' riguardoso io credo che qualche virgola da sistemare c'è stata però ragazzi il primo grande evento c'erano due famiglie che organizzavano l'evento Sport e Salute e la Federazione quindi non è stato semplice ma secondo me il voto è più che positivo sia a livello organizzativo poi come ha detto il presidente del CONI Malagò puoi organizzare tutto bene ma poi se non vinci la manifestazione non è un successo quindi le medaglie i 24 podi e gli 11 ori hanno hanno creato comunque in ogni caso un'organizzazione stupefacente e poi due volte consecutive due serie consecutive un martedì e mercoledì capito lo Stato un martedì e mercoledì cioè ragazzi sono cose un giornalista diceva nel giro d'Italia il presidente non si ricordavano presidenti della Repubblica che andassero al giro d'Italia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha onorato la triga italiana dando emozioni perché si è divertito trasmetteva empatia lo vedevi che era il primo tifoso e sono cose che sono importanti quindi assolutamente 4 milioni di telespettatori sulla Rai io diciamo non ho avvertito pecche organizzative tutt'altro mi sembrava tutto bello bei colori bella pista addetti al campo addetti ai lavori tutti disponibili io mi porterò nel cuore non solo per risultati un bellissimo europeo le prime azioni nella plaza con RDS è stato tutto eccezionale ragazzi no ma assolutamente Marco io intendevo soltanto l'organizzazione secondo me è stata perfetta si è detto si è letto un po' in giro da qualche parte che insomma c'era proprio pubblico però insomma effettivamente guardandola dalla tele perché io l'ho visto in tele non mi è sembrato poi così poco è chiaro che su 80 mila spettatori è chiaro che gli spazi vuoti però mi sembrava che l'atmosfera dentro fosse buona e volevo una conferma da te tutto qua per carità l'atmosfera era eccezionale perché lo speaker di campo l'entusiasmo del pubblico rumoreggiare ma non solo per gli italiani io ero nella tribuna d'onore dietro di me c'erano gli svizzeri con i campanacci cioè è stato folcloristico poi tante bandiere tanti bambini genitori famiglie noi siamo avanti anni luce con rispetto sportivo rispetto ad altri sport quindi io me lo sono goduto tranne appunto il venerdì che l'ho visto in televisione e un po' la domenica non ho avvertito questi questi grossi spazi vuoti e e poi il calore del pubblico italiano forse solo quello brasiliano può avere degli uguali però se c'erano delle serate un poco un poco pubblico sembrava che ci fossero comunque 80.000 spettatori lo speaker di campo eccezionale i telecronisti in tv la Strati Andrew Howe in pista che intervistavano assolutamente è stato tutto bellissimo è stato veramente una grandissima emozione senti Marco hai già anticipato una mia domanda su quali fossero stati diciamo almeno di uno gli atleti che ti hanno più emozionato hai già parlato di Fabri vabbè per tanti motivi perché comunque tu sei molto legato a Leo e comunque al mondo dei lanci chiaramente però insomma a parte Leo quali sono stati diciamo gli atleti che ti hanno più emozionato ed entusiasmato e anche sorpreso diciamo Tamberi per distacco Jimbo 237 c'è roba da matti ma no tutto tutto cioè come il suo avvicinamento agli europei lui per un certo periodo era incerto se parteciperò o no io seguo i social attivamente leggo i giornali il web aveva il problema la ginocchia è andata a Formia era titubante e invece è sceso in pedana dopo il 2.21 fatta la prima prova unico salto in qualificazione all'esordio 2024 senza aver fatto una gara indoor lui si è presentato col suo zainetto dove aveva già dentro la scarpa chiodata di riserva con le molle cioè lui è uno showman un trascinatore e e e e per questo che è il portapandiera della dell'Italia alle alle olimpiadi quindi lui è andato in pedana consapevole che aveva in tasca il coup de théâtre fa 29 alla terza con la sticella che balla ancora adesso ci ha fatto morire dalla dalla preoccupazione e dalla gioia poi alla seconda prova adesso non mi ricordo se alla seconda la terza la seconda fa 31 e vince la gara la prima alla prima Marco alla prima 31 poi 33 l'ha sbagliato sì due volte però tanto ha sbagliato anche l'altro quindi ha vinto è andato a 34 alla prima ha fatto 10 minuti di casino si è tolto la maglietta si è di nuovo concentrato e ha fatto 37 alla prima di cosa stiamo parlando è mostruoso che 2-37 è che la misura è che la misura con cui si è vinto l'Olimpiade esatto la misura che ha vinto l'Olimpiade ma se il record dei campionati fosse stato 38 lui avrebbe fatto 39 perché lui in qualità di capitano non voleva essere di meno da Leo che ha fatto 22-45 dei campionati di altri atleti che hanno stupito lui voleva essere il primo attore di questo grandissimo film e come poteva farlo vincere non era sufficiente ha fatto il record dei campionati che era 2-36 quindi ragazzi poi lo show tutto io non lo trovo mai eccessivo perché lui è questo senza questa sua spinta emotiva sopra le righe lui non avrebbe fatto quello che ha fatto dopo l'infortunio di Rio dopo l'infortunio di Monte Carlo che è impedito di fare le Olimpiadi a Rio lui è questo uno dice nel bene o nel male ma non c'è male c'è solo bene dobbiamo ringraziarlo perché fa venire i bambini al campo a provare il salto in alto come lo ha fatto in passato Filippo e Marcel e quindi chapeau giù il cappello Jimbo è veramente io l'altro giorno parlavo con degli amici molto appassionati io credo che nella cinquina degli sportivi di tutti i tempi adesso senza andare troppo indietro con gli anni agli anni post seconda guerra mondiale eccetera eccetera io credo che lui è insieme ad Alberto Tomba lui è insieme al più grande motociclista di tutti i tempi e tu sai a chi mi riferisco che trema la voce quando parli di Valentino Rossi insieme a Pietro lui ha vinto tutto ha vinto tutto quindi secondo me è uno dei migliori di sempre e sotto tutti i punti di vista beh adesso chiaramente mi spiace perché chiaramente non c'è più ma secondo me ha superato anche Pietro insomma secondo me Jimbo è immenso e oltre alla leggenda insomma perché veramente ha vinto tutto e di più e se poi rivince anche le Olimpiadi ma poi ne parliamo aspetta l'ultima parte parliamo delle delle previsioni dammi soltanto un nome che mi sembra scontato però dai dammelo della più grande sorpresa italiana di questi europei almeno per me poi dimmi tu Alessandro Sibillo ah ok 4750 sì però io avrei detto Luca Sito insomma diciamo perché Sibigli era già era già consolidato invece Luca Sito è stata una sorpresa per chi per chi non lo conosce nel senso che Luca Sito era scritto che lui avrebbe fatto il record italiano di Davide Re perché ha fatto delle operazioni pazzesche a Bahamas recentemente ha fatto delle prestazioni in Monster e quindi alla fine era scritto però ragazzi 4750 nei 4H un atleta che recentemente a Savora per esempio non è venuta perché ha avuto un affaticamento che fa tre turni poi non ha corso la 4x4 ha avuto problemi muscolari che quando va sul campo fa riscaldamento bisogna farsi la croce perché non sappiamo se parto o no 4750 facendo il record italiano battendo Fabrizio Mori campione del mondo diciamo vogliamo dare due ore a pari merito come Bershim e Jimbo Sibì io e Sito e a livello femminile invece secondo me la collettività della perché parlare della Batocletti è semplice perché comunque lei è un fenomeno una doppietta incredibile però la collettività delle staffette collettività della 4x4 con 4 ragazze giovani ai piedi del podio con il record italiano la 4x4 mista la 4x4 mista le staffette ha detto bene Marcello noi siamo una famiglia Pisani Di Mulo tutto lo staff con Frinolli tutti i lineatori personali l'Italia ha questa marcia in più data dalla dalla foccosità dal gruppo dal gruppo assolutamente la differenza è quella diciamo questi mi piace mi piace ricordare l'ho intervistato proprio pochi giorni prima degli europei mi piace ricordare Antonio Latorre perché comunque è un grande uomo un grande motivatore è veramente un grande direttore tecnico credo che tu sia certamente io stimo tantissimo Antonio spesso gli mando dei messaggi di complimenti e lui con molta umiltà mi ha ringraziato spesso mi ha detto Marco grazie per quello che hai fatto per la trinica italiana in questi anni col meeting che apre la stagione italiana e ci siamo abbracciati ci siamo visti a Savora abbiamo fatto delle foto insieme con i primi artisti italiani il 15 maggio ci siamo rivisti dopo quasi un mese nell'Hospitality ci siamo abbracciati ci siamo salutati Antonio è veramente anche perché è un grande ha un'umiltà è una consapevolezza perché lui è uno scienziato la parola giusta è scienziata perché lui è uno studioso però non sottovalutiamo chi lavora sotto traccia chi lavora nell'ombra Roberto Pericoli io adesso oggi l'ho lasciato riposare perché sarà stato al Quirinale anche lui domani lo chiamo domani pomeriggio Roberto Pericoli è veramente un'altra pedina tecnica determinante in questi successi con lui concordo la data del meeting con lui concordo certe anche il programma gare ci confrontiamo se ci sono problemi li risolviamo insieme quindi diciamo tutto poi Filippo Di Muro cambia la staffetta sembra che abbiano provato i cambi da dieci anni cioè è proprio una scuola la nostra sotto tutti i punti di vista assolutamente sono contento che hai citato Roberto Pericoli perché se ne parla sempre troppo poco effettivamente perché è una persona talmente no lo so umile che quasi si nasconde però insomma il straordinario ex tecnico di Fabrizio Donato e veramente grazie per averlo citato senti per finire Marco mi sembra che tutti abbiano quei pochi che non lo sapessero abbiano perfettamente capito la tua infinita competenza quindi ti devi sbilanciare su qualche previsione per Parigi per forza come ha detto sia il presidente May che Antonio gli olimpiadi sono un altro sport perché ci saranno più di 200 paesi ci sono le Americhe c'è l'Africa c'è l'Asia anche l'Australia l'Australia sì sotto certe in certe specialità sicuramente poco poco effettivamente poco però ragazzi cioè Nadia Batocletti che è stata l'icona a livello femminile con una doppietta storica troverà almeno tre etiopi almeno tre keniane ragazzi qualche americana qualche cinese cioè io gli spero che possa andare a podio però può anche remare undicesima ovviamente stiamo parlando dei 5.000 perché i 10.000 neanche li consideriamo perché i 10.000 veramente il mondo con tutto rispetto per Nadia fa un altro sport insomma capisci cioè i 10.000 se li dovesse fare magari io gli auguro di vincere la medaglia di andare in finale ma la sua medaglia sarebbe entrare in finale ma è complicato le 5.000 magari gara tattica l'è involata magari qualcosa recupera quindi lì il resto la staffetta siamo competitivi per tutte le tre medaglie io spero l'oro di nuovo però comunque ci sarà giamaica e ci sarà gli Stati Uniti io la Gran Bretagna non la considero perché la Gran Bretagna che possa fare 37.50 37.60 non ci credo non scherziamo però però i Stati Uniti con 4 da 9.80 e comunque la Giamaica con Sevilla che ha fatto 9.82 è tanta roba quindi io credo che con cambi top già giochiamo al centesimo con con i Stati Uniti la Giamaica la vedo un gradino più indietro rispetto a noi e poi Leo io aspetto nei trials crosser perché c'è un problema al gomito non l'ho ancora gareggiato ha fatto 22.80 indoor poi basta quindi chiaramente Kovacs 23.13 è un avversario di tutto rispetto dietro non vedo atleti da 23 metri da 22.80 Romani che aveva fatto 22.91 ai mondiali mondiali indoor esatto il il brasiliano però è stemporaneo non è uno da 23 quindi diciamo la triade se Cruiser si riprende ma io non credo che si riprenderà perché non è ancora gareggiata adesso vediamo i trials 13 giorni lo sapremo comunque Cruiser è Leo e Kovacs quindi lì abbiamo la possibilità della medaglia la possibilità della medaglia della 4% la possibilità della medaglia nella marcia maschi e femmini stanno io lo sto seguendo sui social si sta allenando come un matto poi è pugliese verace è carico come una molla quindi la marcia maschi e femmine Antonella anche lei ha fatto una grandissima gara ma stiamo attenti perché alle Olimpiadi sono i cinesi quindi anche lì le variabili sono dure poi abbiamo c'è anche la mista c'è anche la mista esatto la mista dove corrono due volte marciano due volte anche quelli è un'opportunità che abbiamo il salto è lungo qualche americano da 8.40 esce fuori qualche giamaicano da 8.40 tentoglu non è imbattibile però a 20.0 in condizioni meteo buone se non fai 8.45 la medaglia non la prendi quindi è dura ma io credo che Mattia abbia la maturità la classe e il suo il suo team mamma papà fisioterapisti manager Mario Bassani abbiano la competenza per poterlo accompagnare in questo percorso diciamo dove potrebbe avere l'apice Los Angeles 28 e Australia 32 però io credo che lui possa già raccogliere qualche metallo a Parigi e poi Marcel per Marcel è un po' più complicata rispetto al 2021 dove lui è andato a Tokyo con in dote il 9.95 di Savona e il 9.99 della Diamond League di Parigi scusate di Monte Carlo adesso lui è un pelo indietro ma esiste una programmazione tecnica mancano due mesi e quindi secondo me ci sono i tempi tecnici perché lui possa essere in grado in quella situazione di correre meno di 9.90 quindi che bisogna fare questo bisogna fare questo sul femminile perdonami io credo che invece si potrebbero avere delle grandissime sorprese sui 110H non so se tu si ricordi io adesso stavo parlando di perventisti ah su una velocità scusami Savona Zainab io credo che lei possa ambire entrare in una finale per prendere un metallo bisogna fare meno di 10.80 e magari non basta quindi ancora presto per lei invece i 110 io credo che dietro l'americano che certe volte fa un po' di casino sulle barriere soprattutto alla fine c'è Lorenzo e Lorenzo che è in crescita poi un animale da gara esatto se ritocca il suo record italiano io credo che lui possa fare meno di 13.0 poi Parigi una pista dalla Madonna la Mondo ha messo in campo la miglior tecnologia come ha fatto a Roma anche la pista di Savona e credo che Parigi la performance della pista aiuterà a tutti se lui dovesse andare sotto il 13.0 anche perché in Europa abbiamo visto gli Opis sta dietro di un metro e mezzo Pozzi può correre in 13.20 13.15 McLeod 13.34 Savona e poi non ha più migliorato quest'anno ha fatto due gare a 13.45 altri stranieri c'è 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 un altro americano però 12.95 12.98 lo può fare Holloway e Lollo e basta quindi lui può prendere una medaglia e sarebbe una medaglia nuova rispetto a Tokyo e il resto Benjamin Dos Santos e il vichingo devi fare meno di 47.0 per prendere la medaglia cioè lì poverino è arrivato in un momento storico dove con perché può correre secondo me in 47.30 con 47.30 non prendi la medaglia quindi quarto o quinto quarto o quinto sino a poco tempo fa il rago del mondo era 47.02 di Moses le scarpe ok però cioè voglio dire lui quelle scarpe ce le aveva anche quando ha fatto meno di 48.0 a Tokyo dove è arrivato il settimo quindi queste sono secondo me le medaglie che abbiamo in canna Gimbo naturalmente Gimbo Gimbo deve starci di testa nel senso che deve vivere questa ossessione in modo positivo ma lui è un fuoriclasse anche in questo perché se è riuscito a vivere l'ossessione dell'infortunio di di Monte Carlo per quattro anni anzi cinque ha covato dentro di sé l'ambizione di vincere l'oro riuscirà anche in questi tre anni perché ne sono passate cinque da Rio a Tokyo e tre tra Tokyo e Parigi per il discorso Covid quindi lui è un altro che in questo momento solo Barshim ma Barshim conosce la forza di Gimbo e quando sei in pedana la strizza non ce l'ha Gimbo ce l'hanno gli altri perché altri che possono fare 37 38 38 tranne Barshim che non l'ho visto assolutamente bene nelle gare che ha fatto quest'anno chiaro io questo senti Marco con questo siamo chiaramente a parlare con te è sempre un piacere ma si da domani mattina siamo andati fuori tempo massimo comunque insomma mi sembra che il tuo messaggio sia più che positivo e mi sembra insomma sono totalmente d'accordo su tutto quello che dici vorrei soltanto aggiungere vabbè intanto non ci sente che io su Simonelli scommetterei qualcosa di importante comunque vabbè lasciamo perdere concordo su di te incrociamo le vite concordo su di te comunque veramente su tutto ti ringrazio veramente complimenti veramente infiniti ancora ma sono convinto che l'anno prossimo sarà ancora meglio il meeting di Savona speriamo speriamo magari l'anno prossimo come quest'anno ti ho inseguito ma non ce l'abbiamo fatta a presentarlo magari l'anno prossimo riusciamo a presentarlo è una cosa che sarà migliore sicuramente sarà il mio avvicinamento emotivo alla manifestazione perché se dovessero esserci previsioni meteo piovose non mi preoccuperei come mi sono preoccupato quest'anno perché ho capito che si può fare un grande meeting anche con meteo non favorevole quindi questo è un'altra bella cosa che mi aiuterà nell'avvicinamento va bene grazie mille Marco ci vediamo grazie grazie veramente per la tua partecipazione ciao a tutti grazie Ferdi ciao 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 perfetto anche per questa sera abbiamo finito per questo bellissimo commento agli europei con Marco Mura ci vediamo alla prossima e più che mai buona atletica a tutti